...e sarà possibile se ci sono le volontà di sicurare lo merito, poi il problema evidentemente è questo, io non posso accendere, ecco l'accento di sicurezza... ...l'ipotenese e i parvense non lo vogliono sentire come il loro salume tipico, in questo caso il termine di salame è il tipo fellino, lo gradiscono molto stagionato, io personalmente sono per degustare un prodotto molto stagionato, mentre noi in questo territorio lo degustiamo sempre abbastanza morbido il salame e con molto aglio. ... ... ... ... ... ... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.